ma quella onda vada sarà tipo volato non so se l'hai visto ti ho buttato a canone però è vero fede anche io sui toni sono appoggiati in banca tan 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 tan... io ho stati tutti che non mi occupavano 10 kg di spazio vieni messi in banca arrivo, 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 arrivo che c'è? oh, tutto rosso eh, c'è la lava qua ci uccideranno trasporto meno o no, è un altro canale trasporto oh, cazzo, bella ma sono attivi, siano sicuri? non lo so, non lo so ah, cazzo, sono scomparsi provo a sacrificarmi un attimo e vedere se rimangono attivi no, Tom, salta indietro, non lo spariscono aspetta, voglio vedere se... 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 oh, ti vede... oh, ti vede... cazzo, bisogna correre come i pazzi loro oh... 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 bella, bella oh... c'è un altro control panel qua c'ha fatta, raga eh oh... 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 cazzo... ah oh... oh porco bastardo oh mio dio oh mio dio porco da no sopra o sotto raga no no pezzo sta scadendo sta scadendo bastardi che infine abbiamo provvenciato ma dove siete andati? sopra o sotto? sopra no c'era un'altra via per andare sotto quanto tempo? adesso mi dico tom mi guardo tom in diretta tom life e questo quanto cazzo è lungo? porco disco no non te ne preoccupare guarda quella di prima occhio tom occhio tom e questo? l'avete attivato? vabbè io me lo attivo per me porco disco ho sbagliato oh ormai ciao ciao luca fede si muove dopo ta oh dove sta? nabi oh mio dio eh nabi è al fuoco vede? dove andiamo? no raga bella domanda cazzo cazzo l'hai rispattito dalla grafica oh mio dio riattivatelo raga cosa? riattivate le... le passarelle come cazzo si arriva di lì zio cane mi sono bloccato qua senta eh anch'io perché non possiamo riattivare l'affare no dobbiamo aspettare che arrivano loro e che lo riattivino oh oh sto per cadere di sotto oh mio dio sto sasso l'ho parla sto sasso di merda certo che però è possibile che sia così così corto all'odolata di ste cazzo di affari nooo vabbè l'ho vista non c'era raga ditecelo quando attivate questo bella fede attivo cazzo oh cazzo dovete andare da qua mi fa andare qua siamo pagliato sto andando indietro no no bella bella muoio raga muoio raga bella sono morto no no ce la devo fare no sono morto cazzo ah grande ti respano dall'inizio ma come fate raga a vedere la scadenza dei cosi? ho detto non vedere che non sei sto qua cominciano a sblinkggiare di più tipo eh ma dai no raga adesso sono io l'ultimo aspetta però ci sono ancora io che non so come ritornare lì muori devi aspettare di morire se muori ti trasporto all'inizio non riesco più a fare questi più che altro perché però non ho cazzata prima adesso sono un coglione ma che ma non capisco ah solo lo so perché perché mi conta come in combat perda o no no non sono in combat no io non sono morto non capisco ma qua è anche bastante furio di eh ma dove siete voi? eh io sono morto stavo tornando sto per arrivare dal secondo noo noo cazzo mi è stata tolta appena stavo saltando chi è che rinizio? eh anch'io devo iniziare io io sono all'inizio praticamente eh anch'io ci sono i teletrasporti aspetta noo dove teleport sono i cosi con le mini all'inizio che ti dice teleport to station bla 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 ma va? ovviamente? si ah c'è un lab assistant qua te transporta dove vado? eh quando muori all'inizio porco disco sbagliato troppo easy così porco disco ma di nuovo accesso occhio fede non so se durano abbastanza porca deve essere più veloce forse cazzo di salto bella fede raga qualcuno qualcuno riattivi la seconda base? seconda? terza vuoi dire? no prima, seconda basta dove cazzo sta la porco disco non sono ancora arrivato la terza come no io sono la quarta siete più avanti? io c'ho il teletrasporto fino alla quinta cazzo ma dai ma non posso essere così coglione no raga c'è? no e io sono fottuto devo tornare indietro devo tornare indietro ma fai essere più avanti te tu scusa non so ma raga ce n'è una in orizzontale raga ma aspetta un attimo raga ma aspetta un attimo io vi aspetto sono alla quinta minchia ma che cazzo hai fatto a farlo? è saltato raga lo sapete che la quinta è impossibile perché tipo sono messi in verticale le cose non sapete che cazzo bello voi lo vedete quando arriva? dove siete? che semmai vi teletrasportano alla porta sto arrivando alla terza io sono boh non so dove cazzo sono io sono qua sotto ci ho fatto la terza scompaio la grafica minchia i stanciati esattivando cazzo sono morto raga porco disco ahhh guava di merda adesso mi resso c'è un assistente qui da qualche parte golem assistente la terza mi riesco a superare la seconda io non ce la faccio ma come? quella è bellissima non ce la faccio mi sa che fede ha trovato quelle verticali l'hai vista fede? come fai? eh non lo so non lo so io adesso sono tornato indietro da voi però anch'io quando le ho viste sono caduto due volte boh dove sei andato come no? sono la terza sto andando la quarta vedo la fifth nooo me l'ho levato shab e raga sono nella lava bella sono la quinta e qui la bestia vede? che? che è che li attiva la terza? ma cosa so? quanto c'è questo qua? veniva ma cosa tocca c'è? ma scusa? raga mi è venito a restare mi ha detto di entrare a waypoint oh ma l'ho toccato raga dove sei duke? mi vedete? sono nella lava se qualcuno metteva il pannello riesco a non andarci un buon samaritano che mi viene a restare anche se sono nella lava però dovreste riuscire dal pavimento a restare qualcuno che a caso riesce a mettere il terzo coso? raga sono un genio ho capito come farla dopo la quinta grande 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 ah sono la sesta raga come hai fatto stronzo? stability? no no vi faccio vedere ah ma non posso te soltare la quinta ma no ma porco il mio ma l'ultimo saldo sono come un coglione grazie non lo so raga come si fa a tornare alla quinta io ci sono io fino alla quinta ci sono anche aspettate che mi suicida allora questa era una cazzina come hai fatto a far quella thom? vi faccio vedere raga vi faccio vedere Una stupidata aspetta non è che si passa qua sopra. Eh sì a sinistra Però fate veloce perché bisogna ritornare sui pannelli poi Guarda sono morto Nooo Non riesco Dov'è il pannello? Ve l'ho detto io di far veloce Oh raga che vuoi vedere? Tanto io vado alla sesta bella ci vediamo alla sesta raga Sei morto o no? Vado o no? No nel per terra Nel per terra Nel per terra Nel per terra Nella terra E' trattato quello di trasporto se uno viene qua Bella fede No da lì dove dovevo andare poi? Adesso a sinistra che non l'ho mica capito Verso, verso sinistra c'è la sesta stazione Ma no potevi restarti con il tastino 4 No non ce l'avevo ma defated proprio secco Defeated Mi sta spacando con un cannone tipo Ma nooo Mi fa il veloce fede Bella Ed è venuto a farci come un cannone Si Allora dopo bisogna essere tipo super mega velocissimi Bella Sono lento saltare Oh cazzo Oh cazzo Pronto no? C'è scritto No aspetta 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 Security golem Vai Cazzo ma sei nato via Tom Che cazzo faccio ora? E dov'è arrivare dalla sesta C'è te ci siete c'è te ci siete ragazzi Ma nooo Nooo! Da vaffanculo! PUUUUUH! Hai saltato un... cosa? Io l'ho fatto proprio da panico! No, perchè ho saltato di lato! Ho saltato quel coso! Vabbè! Poco male! Bisogna che si incazzano ora! Ah, spendi il chest, te lo avevo così di cattiveria? Ah no, c'è un muro! Eeeeee... What the fuck? Cazzo! Aspetta, sei passato qua fuori! Perchè mi fa cadere sempre il mio guerriero così stupido? Ah, c'è un control panel qua, raga! Non fa niente, però... Ho fatto qualcosa? Sì? Sì, sì! Arrivo subito! Raga! Da me? Cazzo! Si siano attivati i casi! Oh mio dio! CISCO! Dove siete bastardi? Oh mio cazzo! Area damage self-repare! Resta mi subito invece che far cazzate! Raga ma sono bestiali questi tiri qui! Aspetta, li uccisi tutti! Resta, mi resta, mi resta! Resta, mi resta, mi resta! Resta, mi resta, mi resta! A fare quel pezzo li! Voglio sempre il salto! Bella! Cazzo! Non vale niente! Pazzia! Bella raga! Beh beh, mi ha spaziato! Grazie a tutti.